Ciao a tutti, sono Luna dal sito vidlab.it e questa è la prima lezione di letteratura latina. Il nostro percorso comincia con quella che si definisce età preletteraria. L'età preletteraria va dall'epoca in cui viene elaborato l'alfabeto latino, cioè il VII-VI secolo a.C., al 240 a.C., data convenzionale d'inizio della letteratura latina. Infatti in quell'anno per la prima volta si tenne a Roma, durante una festività pubblica, la rappresentazione di un dramma di tipo greco, opera di uno scrittore di nome Livio Andronico. Storicamente questo periodo va dalle origini di Roma, la cui data tradizionale di fondazione, e cioè il 21 aprile del 753 a.C., fu stabilita dall'erudito Varrone nel I secolo a.C., alla fine della Prima Guerra Punica. Durante l'età preletteraria la scrittura venne usata principalmente nell'ambito politico e in quello religioso, e dunque le più importanti manifestazioni culturali, le formule, i riti, ecc., avevano forma di oralità, ed erano quindi basate sulla memorizzazione e sulla trasmissione orale di generazione in generazione. La tradizione stessa La tradizione stessa ci racconta che Romolo, nel momento in cui fondò la città, accolse esuli e fuggiaschi di diversa provenienza, e che più tardi, per procurare le donne alla propria gente, organizzò un rapimento di donne a danno del vicino popolo dei sabini, il famoso ratto delle sabine. Questi sono episodi leggendari, ma riflettono probabilmente la realtà, e cioè la presenza a Roma fin dalle origini di etnie e culture diverse. La fondazione di colonie greche in Campania determinò una rapida penetrazione della cultura greca in Etruria, nel Lazio e in altre aree. L'alfabeto greco si diffuse quindi nell'Italia centro-meridionale, e in particolare nell'area etrusca, dove venne adattato alle esigenze dell'etrusco, del latino e di altre lingue italiche. La più antica attestazione dell'alfabeto latino ce l'abbiamo nel cippo iscritto che si trova nel foro, nell'area sacra del Niger-Lapis, e che risale agli inizi del VI secolo a.C. I rapporti con le colonie greche fecero circolare in Italia vasellame decorato e manufatti artistici greci. Sorsero officine in Etruria a Roma che producevano oggetti d'arte. Tra questi il più antico prodotto a Roma che conosciamo è la cista Figoroni. In architettura si fece sentire l'influenza etrusca. L'antico tempio di Giove Capitolino è infatti costruito secondo lo schema etrusco-italico. Dall'area greca arrivarono, in Etruria e nel Lazio, anche i miti greci, che spesso erano rappresentati anche sui manufatti. Particolare fortuna ebbero i miti relativi agli arrivi in Occidente di eroi, fondatori di città, e nella preistoria di Roma trovarono collocazione Evandro, eroe dell'Arcadia, a cui si attribuiva una fondazione sul Palatino, poi Ercole, che sarebbe stato ospite di Evandro e a cui fu dedicata l'antica ara massima nel Foro Boario, poi ancora Enea, che dal IV-III secolo a.C. fu considerato il progenitore ufficiale dei Romani. Anche la religione romana risentì dell'influenza greca. Le divinità greche furono identificate con le divinità italiche, e così lo Zeus greco divenne il Giove dei Romani. Crono fu identificato con Saturno, Ares con Marte, ecc. Mano a mano vennero importati numerosi culti, come quello di Castore Polluce, a cui fu dedicato un tempio nel Foro Romano nel 484 a.C. Secondo la tradizione, Roma ebbe sette re. Dopo Romolo regnarono infatti Numa Pompilio, Tullo Stilio, Ancomarcio, Tarquinio Prisco, che segna l'inizio della dominazione etrusca, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, il quale fu cacciato nel 509 e fu istituita alla Repubblica, con l'elezione annuale di due consoli che si spartiva nel potere. Per quanto riguarda la cultura nei primi secoli della Repubblica, dopo la fine del Regno e il declino degli Etruschi, ci fu una fase di solamente di ristagno della vita culturale. Anche l'arte e l'architettura furono rallentate, con minor produzione sia di manufatti che di opere edilizie. L'uso della scrittura rimase confinato negli ambiti ufficiali, come ad esempio nei trattati, e l'alfabetizzazione, cioè la capacità di leggere e scrivere, era limitata ai sacerdoti e agli esponenti delle famiglie patrizie. Dopo la pubblicazione delle 12 tavole nel 450 a.C., le quali sono le prime leggi scritte di Roma, che in minima parte garantivano ai playbay la sicurezza che le norme non sarebbero più state sottoposte al libero arbitrio dei patrizi, l'alfabetizzazione cominciò ad estendersi e la scrittura fu utilizzata in modo più sistematico, per la compilazione di elenchi di magistrati e cronache degli avvenimenti verificatesi nel corso dell'anno. Queste cronache sono dette annales. Dunque, la scrittura divenne anche strumento di memorizzazione. Tuttavia, le principali manifestazioni culturali rimasero in quest'epoca caratterizzate dall'oralità. Di questa antica produzione culturale noi conosciamo gli esiti più tardi, che preludono a forme di carattere letterario. Alla poesia preludono i Carmina, alla prosa letteraria preludono gli elogi funebri. Poi c'erano altre manifestazioni letterarie che erano in forma di dialogo e possiamo considerarle antecedenti a quello che sarà il teatro e che sono i fecennini, i ludiscenici e la fabbola tellana. Fra poco analizzeremo meglio tutte queste forme di cultura orale. Con le vittorie romane sui Senniti, con tre guerre che si svolsero dalla metà del IV agli inizi del III secolo a.C. e sulle città greche come Taranto e Reggio Calabria, a Roma si verificò di nuovo la diffusione della cultura greca, con afflussi di opere d'arte, di schiavi e immigrati con un alto livello culturale. Tutto questo stimolò il processo di alfabetizzazione e dunque una produzione letteraria in latino. La produzione di opere d'arte fu anch'essa incrementata. Vennero prodotti soprattutto busti e statue, già al tempo delle guerre sannitiche. Al III secolo risale la testa in bronzo detta Bruto Capitolino. All'epoca della guerra contro Pirro e dell'Epiro, che fu sconfitto nel 275 a.C., risalgono le prime monete romane in argento, coniate inizialmente a Capua. In epoca antica le monete erano costituite da capi di bestiame. Infatti il termine pecunia, cioè denaro, deriva da pecus, che vuol dire grege. Poi si passò a monete fatte da barre di bronzo e poi, come abbiamo detto, alle monete d'argento. Dopo le prime esperienze di conio, a Roma venne istituita una zecca presso il Tempio di Giunone Moneta sul Campidoglio. Moneta è un epiteto di giunone che significa ammonitrice, dal verbo moneo, ammonisco. E quindi, siccome per disegnare la zecca che era lì si diceva ad monetam, cioè presso il Tempio di Giunone Moneta, allora il termine moneta passò a disegnare la zecca e il denaro coniato dalla zecca. Analizziamo ora le forme di cultura orale che abbiamo anticipato prima. In origine, gli antichi utilizzavano il termine carmen, il plurale è carmina, per disegnare una qualsiasi sequenza verbale distinta dal linguaggio quotidiano. In seguito, il termine fu usato per disegnare i componimenti poetici. Il termine deriva dal verbo cano, che significa canto, ma anche incanto. Esso designa dunque una frase o una serie di frasi pronunciate in modo solenne, che potevano essere riutilizzate in situazioni analoghe, e dunque preghiere, invocazioni agli dèi, formule magiche, maledizioni e giuramenti. La lingua dei carmina è una via di mezzo fra prosa e poesia, dunque una specie di prosa ritmata. Come tutte le manifestazioni orali, anche i carmina dovevano essere memorizzati per essere trasmessi nel tempo. Per facilitarne la memorizzazione e nello stesso tempo per renderli solenni, i romani utilizzavano particolari artifici per rendere diversa la lingua dei carmina dalla lingua quotidiana. Disponevano quindi le parole in modo ordinato per ottenere frasi di uguale lunghezza. Utilizzavano la ripetizione, cioè usavano più volte la stessa parola nell'ambito di una frase o di un periodo. Usavano l'allitterazione, cioè accostavano parole che presentavano le stesse consonanti, o la stessa sillaba finale, e in caso della stessa sillaba si dice omoteleuto. Questi altri artifici sono denominati figure retoriche, e ne vedremo alcune più in là nel corso delle lezioni. Le stesse figure retoriche vennero utilizzate anche per formulare alcune delle leggi delle dodici tavole, che quindi hanno carattere di carmina. Questo perché le leggi dovevano anch'esse essere pronunciate in modo solenne, e prima che venissero scritte, queste leggi erano tramandate oralmente. A partire da una certa epoca, i romani utilizzarono un particolare verso per il loro carmina, chiamato Saturnio.